La presenza attiva dei carabinieri ha caratterizzato il primo mese del nuovo anno nella piana di Gioia Tauro, con azioni mirate alla prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio. Nel corso di un solo mese sono stati effettuati numerosi controlli e diverse persone sono state deferite all'autorità giudiziaria di Palmi. In particolare, la tenenza dei carabinieri di Rosarno ha deferito tre individui. Un cittadino del luogo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, non rispettando le prescrizioni del giudice, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Un altro è stato deferito per minacce e percosse, in seguito a una lite, mentre un terzo è stato trovato in possesso di una sostanza stupefacente, presumibilmente marihuana. I carabinieri della sezione radiomobile di Gioia Tauro si sono concentrati sulla repressione delle violazioni del codice della strada, identificando due persone alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, livello soggetto a sanzioni penali per il reale pericolo che comporta per persone e beni. Un minorenne è stato fermato per la violazione con recidiva infrabiennale della norma che impone la circolazione solo a coloro dotati della prevista patente di guida. I controlli sono stati estesi anche a San Ferdinando, dove due extracomunitari sono stati deferiti per la violazione delle prescrizioni giudiziarie, non presentandosi in caserma per adempiere all'obbligo di firma. Situazione simile è stata riscontrata all'Aureana di Borrello, dove un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare non era presente al momento del controllo. Attualmente i provvedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati si applica il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.